Grazie a tutti. Sono uno dei 8 soci contatori dell'associazione. Oggi voglio condividere insieme a voi le tematiche riguardo Blue Team, quindi chi è e cosa fa, e i sistemi di difesa. Iniziamo a parlare delle generazioni degli attacchi informatici. Voi mi direte come mai mi parli di attacchi informatici quando le slide sono sulla sicurezza e sui sistemi di difesa. Innanzitutto, come dice Sun Tzu nella guerra, bisogna conoscere il proprio amico per potersi difendere. E poi, per un semplice altro motivo, in queste 5 generazioni di attacchi, ogni strumento di difesa che è stato creato è stato appunto per bloccare gli attacchi che sono stati scaturiti e nati dagli anni 80 e venendo oggi. Quindi iniziamo a parlare degli anni 80, di fusione personal computer, venendo ai giorni nostri, quindi negli anni 80, gli hacker, persone giovani, curiosi, che volevano farsi conoscere al mondo. Venendo ai giorni nostri che questi virus, questi attacchi, vengono utilizzati per cybercrimine, un'azienda da milioni di dollari, spionaggio industriale, spionaggio da stati e così via. Iniziamo a parlare della prima generazione di attacchi, in cui, ovviamente, iniziano con la diffusione personal computer a livello di massa. Per esempio, prendiamo come esempio Elk Cloner, che era il primo attacco che è stato creato. A quei tempi, in America, era diffuso il personal computer Apple II, c'è questo ragazzo americano di 15 anni, con spiccate doti nella programmazione, che ha sviluppato il primo virus, quindi avviando un personal computer Apple II da un floppy infetto. I successivi floppy inseriti nel computer si infettavano e veniva mostrato a video delle scritte, una poesia, quanto aveva sviluppato questo ragazzo. Quindi, se si potevano scrivere a video codice malevolo, immaginiamoci il codice arbitrario che si poteva modificare un attimo le configurazioni, le impostazioni del computer e così via. Quindi, è stato inventato il primo sistema di antivirus, grande John McAfee, grande reprensibile John McAfee coprofago. Inventò, fondò l'azienda McAfee e inventò il suo primo sistema antivirus, VirusCAN. Passiamo alla seconda generazione di attacchi, quindi con lo sviluppo e la creazione della rete internet. Quindi, immaginiamoci prima che i virus erano relegati a semplici autonomo system, quindi semplici computer, quindi creando con la diffusione di internet, la diffusione di questi virus. C'è quest'altro ragazzo, neolaureato della Cornell University, questo Morris, che creò il primo worm della storia. E creò, cioè il suo scopo era di verificare, cercare quanto fosse vasta la rete internet che ai tempi erano gli albori. Quindi creò questo, sfruttando delle vulnerabilità nei sistemi Unix, compromise le macchine e, ovviamente, il worm funziona in questo modo, praticamente. Sfruttò delle vulnerabilità nei sistemi Unix ai tempi e la SunOS erano dei sistemi più utilizzati, quindi non c'era nessun sistema di controllo nella rete internet, qui non c'era nessun fan, nessun sistema di sicurezza. Quindi, potenzialmente, io dal mio PC di casa potevo raggiungere, pingare un PC di un cinese e anche sfruttare le sue vulnerabilità. Cosa fece Morris? Mandò in giro questo worm, sviluppò questo worm, mandò in giro questo worm per la rete internet, Sfruttò la vulnerabilità del sistema Unix, per esempio, del PC in Cina e, quindi, una volta compromesso il PC, questo si diffondeva orizzontalmente all'interno della rete locale e all'interno di internet. L'unico problema è che questo worm, Morris, aveva implementato anche un sistema di controllo, quindi, ovviamente, se il worm era già installato sul PC, non si reinstallava. Il problema è che una volta su sette, questo si reinstallava, quindi, immaginiamoci, il warming si diffonde, lo stesso PC riceveva lo worm da altri PC, quindi si installava più e più, una volta su sette si reinstallava, quindi più e più volte andava a consumare risorse sul computer, quindi creava il primo attacco della DNA o servizio della storia. Quindi, cosa è stato inventato? Il firewall, quindi solo il traffico, inizialmente, diciamo che il traffico che dall'esterno verso l'interno è bloccato, c'è di default di un firewall, e solo il traffico che definisco io può essere abilitato, può essere permesso. La prima azienda che creò, il primo firewall fu inventato dall'azienda israeliana Checkpoint, che inventò il firewall 1, con tecnologia base di Stateful Inspection, che, faccio un esempio, quindi Stateful Inspection, io dal mio PC di casa cerco di raggiungere un sito web. Il traffico di risposta, che ovviamente deve essere permesso sull'interfaccia interna del firewall, e il traffico di ritorno, che arriva dal server web, dal sito, viene accettato perché esiste una contestualità, quindi sa che già è aperta una connessione dall'interno verso l'esterno, quindi il traffico viene accettato. E più, ovviamente, è il traffico che viene esplicitato sul firewall. Parliamo degli attacchi di terza generazione, esempio il famoso HelloView. Gli attaccanti, in questo caso, spedivano delle mail con oggetto HelloView, e come allegato, degli allegati malevoli, all'insaputa di quelli che ricevono questa mail, ha colpito sistemi Outlook, sistemi Windows, quindi quello che riceveva questa mail, la riceveva nell'oggetto HelloView, e nell'allegato, sapete che di default, sui sistemi Windows, il nome dei file, l'estensione dei file, non vengono visualizzati, e quindi c'era questo bellissimo allegato, che era, in qualche parola, un file Visual Basic Script, un file VBS, che sfruttava vulnerabilità di Outlook e anche di Windows. Quindi cosa faceva? Quando uno faceva doppio clic sull'allegato, andava a rimpiazzare i file .doc, i file .jpg, rimpiazzandoli con dei nuovi file, con l'estensione VBS, e i file mp3 venivano nascosti. Quindi, tecnologia adottata, inizialmente, introduction detection system, quindi rilevava l'attacco, e poi successivamente un IPS, oltre a rilevare, bloccava questi attacchi. Quindi soldoni, facciamo un esempio, io dal mio pc di casa ho un exploit per sfruttare la vulnerabilità di un web server, un sito internet, che è pubblicato con Apache. Io so che quello Apache è datato, quindi è vulnerabile a determinati exploit. All'interno della mia rete ho questo IPS, che si trova nel mezzo, verifica il passaggio di ogni pacchetto, e ha un database immenso di exploit, rileva questo exploit e blocca questa comunicazione, prima che arrivi su web server, prima di comprometterlo. Arriviamo alla quarta generazione, StaxNet, che ha detto di molti è l'attacco meglio ingegnerizzato al mondo, quindi si dice che sia stato fatto la collaborazione di NSA e servizi di intelligenza israeliani, un attacco che ha sfruttato come vettore una chiavetta USB, quindi questa chiavetta USB è collegata ai sistemi di una centrale nucleare, faccio un attimo di assunto, questo attacco era appunto per bloccare lo sviluppo nucleare di Tehran, quindi dell'Iran. Quindi questo attacco è stato utilizzato più exploit, più vulnerabilità zero day, quindi inizialmente tramite una connessione USB, connesso a un PC, hanno sfruttato uno zero day a livello di Windows, poi uno zero day a livello di sistema di gestione di PLC a centrale nucleare, più anche una vulnerabilità zero day del PLC stesso. Tenete presente che uno zero day nella black market costa un quarto di milione di dollari, quindi questa è una delle possibili motivazioni per cui chi può aver eseguito questo attacco può essere aziende, governi e così via. Un altro esempio di attacco di quarta generazione è quando è stato attaccato sempre all'interno del 2010 in cui una serie di telecamere compromesse all'interno di un botnet hanno generato un attacco DNS, attacco non dire comunque, hanno generato talmente tanto traffico DNS che ha fatto creolare i sistemi DNS di DNS, utilizzato da Netflix, Amazon, quindi c'è stata una caduta di questi siti. Qui in tecnologie di difesa adottate, anti-bot e sandbox. Sandbox, per esempio, facciamo un classico esempio, io scarico un file da internet, il file prima di essere scaricato sul mio PC viene mandato, emulato in un altro sistema analogo al mio, per esempio io ho un PC Windows 7, prima di essere scaricato sul mio PC di casa viene emulato su un sistema in sandbox, quindi viene eseguito e detonato in questo ambiente, quindi prima di essere scaricato sul mio PC deve essere rilevato che se questo file è infetto o meno. Sistema anti-bot, quindi lo implemento a livello di rete, installo questo prodotto all'interno della mia rete aziendale e verifica le comunicazioni da e per la mia rete, quindi identifica se sono delle comunicazioni command and control, per esempio se un mio PC è compromesso e eseguo delle comunicazioni verso un server pubblico esterno, io posso sapere già, il mio sistema conosce che il determinato IP pubblico fa parte di una botnet, è malevolo, è già una bad reputation, e blocca quale sito, quale IP pubblico, comunicazione verso quale IP pubblico lì. Andiamo alla quinta generazione, parliamo di WannaCry, quindi è dal 2017 venendo oggi, come è avvenuto l'attacco a Nakai, che è uno dei più grandi ransomware della storia, parliamo di maggio 2017, primavera 2017, era esposto il protocollo SMB sul pubblico, ovvero port TCP 445, questo protocollo è utilizzato di solito all'interno delle rete vocali per condividere file, cartelle, stampanti, e così via. Diverse aziende avevano pubblicato questo servizio su internet, per esempio il sistema sanitario del Regno Unito, la produzione da Renault, l'Inson e così via. Quindi gli attaccanti hanno sfruttato la vulnerabilità in questo protocollo, che peraltro, è già uscito un aggiornamento, una pezza di sistema, tre mesi prima da Microsoft, che ovviamente queste aziende non hanno aggiornato il sistema, quindi avevano questo protocollo, questo protocollo esposto su internet, che era vulnerabile. Quindi l'attaccante ha sfruttato la vulnerabilità, ha preso il controllo del sistema, e ha cifrato tutti i file sulla hard disk, dei sistemi di destinazione. Parlando ancora di generazione 5, quindi è l'ultima generazione, da 2017 venendo oggi, parliamo di attacchi multivettoriali, quindi gli attacchi possono arrivare dal sistema di posta, che resta sempre il primo vettore di attacco, quindi la maggior parte di attacchi li vanno alla posta, però possono arrivare anche dal cloud, possono arrivare dal mobile, per esempio il mio portatile aziendale, cioè dal mio telefonino aziendale, può essere compromesso, senza antivirus, non ho nessun antivirus sul mio device aziendale, oppure branch office, l'attacco per esempio, non viene sperrato nella sede centrale dell'azienda, ma da una sede remota, che per esempio non ha tutti gli stessi sistemi di controllo e di security della sede centrale, quindi una VPN magari tra una sede remota e una sede centrale, tra queste due sedi c'è una connessione VPN, e tramite una, visto che magari non è stata eseguita una configurazione corretta, faccio passare tutto il traffico, quindi dalla sede remota io posso vedere tutti i sistemi dalla sede principale, per esempio, generazione 5 parliamo anche di mega attacchi, quindi su scala globale, quindi l'attaccante non si concentra solo su poche aziende, ma dalla serie lancio la rete, vedo i pesci, quello che riesco a prendere, gli attaccanti sono anche, tra virgolette, più ignoranti, ovviamente uno può essere anche meno esperto, o conoscere di meno, rispetto alle prime generazioni degli anni 80, quindi perché, questo perché, l'attacco può essere eseguito anche da persone che hanno meno conoscenza, io vado sul dark web, e acquisto un ransomware, acquisto un virus, una botnet as a service, così via, come tecnologie di difesa, quindi adottate, è una soluzione unificata, integrata, una soluzione di sicurezza integrata, con threat intelligence, ovviamente che si aggiorna in real time, per esempio, io ho un attacco dall'altra parte del mondo, il secondo attacco che magari può arrivare sulla mia azienda, io sono già a conoscenza dell'attacco che è avvenuto, e così via, quindi so già come mitigare, come difendermi. Allora, queste statistiche sono state date da Checkpoint, grande azienda israeliana, uno del leader mondiale in ambito security, che ha testato, intervistato 440 altre aziende, quindi, la maggior parte delle aziende, al giorno d'oggi, utilizzano solo antivirus, firewall, e IPS, e quasi nessuno, o poche aziende, hanno sistemi anti-bot, sandbox, o utilizzano strumenti per verificare le minacce, che arrivano dal cloud, oppure foro uscite di dati tramite cloud, o hanno degli sistemi che controllano i sistemi mobile. Questo è il report, restando in ambito delle statistiche, questo è il report annuale sui rischi, del 2018, la World Economic Forum, vediamo i cyberattacchi, quindi, da questa parte, abbiamo la probabilità, sulla SIS, abbiamo la probabilità che gli attacchi avvengano, e sono ordinata l'impatto. I cyberattacchi, sono, su questa disposizione, quindi, sono altamente probabili, e di alto impatto, quindi, è più probabile un attacco terroristico, e alla stregua di, e di disastri naturali. Quindi, capiamo anche noi, che è importante difenderci, e, il Blue Team, si occupa, si occupa di questo, quindi, sistemi di difesa, e, quindi, analizzare i sistemi, informativi, scoprire le debolezze, le vulnerabilità, i propri sistemi, verificare l'efficacia, e, ritestare, i propri, le proprie difese, che sono state messe in atto, verificare se sono efficaci. Red Team contro Blue Team, questi termini, hanno origini, bellici, quindi, Red Team, origini militari, quindi, Red Team ha lo scopo di, attaccare, Blue Team, sistemi di difesa, quindi, difendere il proprio fortino, traslato in ambito cibernetico, Red Team ha scopo offensive, quindi, trovare debolezze, e, esploitare i sistemi, e Blue Team, quindi, è progettare, e attuare i sistemi di difesa, per, appunto, mitigare gli attacchi, che vengono fatti dagli attaccanti. Al giorno d'oggi, sistemi di difesa, bisognerebbe adottare, vari sistemi su più layer, quindi, lato sicurezza perimetrale, lato sistemi, client e server, e adottare anche dei processi di security. Lato sicurezza perimetrale, protezione perimetrale, quindi adottare questi, strumenti tecnologici, sono Firewall, EPS, Sandbox, molti di questi, ne ho parlato prima, quindi anti bot, anti denial of service, web content filter, quindi bloccare determinati contenuti, magari male ori, o comunque, che possono compromettere i miei sistemi. CASB, che sono per esempio, per i sistemi cloud, quindi sono del, sono del, è un apparato che si, si configura tramite le app, per esempio Office 365, tramite Dropbox, identifica, è quello che passa, la fuoriuscita del dato, e blocca la, blocca queste cose, anti spam, ma che ancora, l'ho messo anche perché, la, la, le mail, al giorno d'oggi, sono le prime vetture di attacco, e quindi, il primo punto, su cui si possono fermare, gli attacchi, protezione server, endpoint, quindi teniamo presente, come l'attacco van a cry, che non è stato aggiornato, se è operativo windows, quindi, è opportuno fare, aggiornare il proprio sistema operativo, e aggiornare anche, le proprie applicazioni, malware protection, nel senso che ogni device, quindi cry in server, deve avere un sistema antivirus, device control, ricordiamoci, l'attacco post accident, quindi controllare, i device che vengono connessi, sui propri computer, quindi bloccare, l'utilizzo di chiavette usb, password policy, e quindi avere, adottare una complessità, delle password, e quindi lunghezza, caratteri, e tutto, pensiamo ad esempio, a una web mail, esposta su internet, e quindi con una password debole, possono entrare nei sistemi di posta, e con le stesse password, magari, possono accedere, è utilizzata anche per accedere, al mio VPN SSL, e al remote access, per accedere alla mia azienda, alla mia linea interna, possono accedere anche, anche alla mia rete interna, conoscendo la stessa password, quindi password diverse, e complessi, device encryption, quindi per esempio, per i portatili, per esempio, è consigliato per i portatili, perché magari sono, sono fuori azienda, mi viene rubato il portatile, ovviamente, se il pc viene acceso, c'è la protezione della password, ma se tolgo l'hard disk, tutti i dati sono in chiaro, e posso leggere il contenuto dell'hard disk, quindi cifrare l'hard disk, quindi device encryption, processi di security, quindi monitoraggio proattivo, quindi NOC e SOC, NOC per verificare, se il device è vivo, se le interfacce sono sature, e il monitoraggio base della rete, SOC, ovvero security operation center, quindi tutti i device della mia rete, switcher, router, firewall, IPS, sistema di posta, devono mandare il log, verso il mio sistema, che è chiamato SIEM, che il sistema aggrega il log, e identifica traffico malevolo, vulnerability assessment, con remediation, pensiamo, per esempio, io pubblico un server web, su internet, su un IP pubblico, quindi se io faccio vulnerability assessment, di questo ambiente, di questo server web, quindi io faccio uno scandale IP pubblico, scopro, per esempio, il server web, che sono in ascolto le porte, TCP 80, 443, il mio strumento di vulnerability assessment, metà una grande database, di explode vulnerabilità, riesci a capire la versione, per esempio, del mio server web a pace, e da questo, riesci a capire, se è vulnerabile o meno, e quindi puoi applicare, delle remediation, quindi per esempio, aggiornare il server web, compliance VPR, dobbiamo sottostare, dalle leggi europee, che ci obbligano a fare, appunto, dei controlli, e adottare, delle misure di sicurezza, il fattore umano, noi abbiamo parlato, fino ad ora, di sistemi di security, tecnologici, quant'altro, secondo un'azienda, secondo una ricerca del 2018, su 1.300 aziende intervistate, l'87% del manager, ha affermato, che il personale inesperto, rappresenta il rischio maggiore, per i crimini informatici, quindi, occorre fare una valutazione continua, di rischio cyber, quindi, oltre a valutare, i rischi tecnologici, per fare anche dei controlli, quindi, security awareness, fare anche, è una, come si dice, spiegare alle persone, per esempio, se il messaggio arriva da un mittente non attendibile, non aprire l'allegato, ed ora vi lascio, con una frase, Kevin Mitnick, uno dei più grandi, di hacker, che dice, che siamo una rincorsa, agli armamenti, in ambito server security, e gli hacker, stanno vincendo, sono stati negli anni, attestati a migliaia di sistemi, e there is always a way in, c'è sempre, c'era sempre un modo, per entrare nei sistemi, con questo vi saluto, vi ringrazio, e scuso se mi sono, di un'altra, applausi, è il prossimo, le domande le facciamo offline, perché è andato un po', un po' lungo, quindi, il prossimo via Skype, giusto? grazie a tutti, perché? Prima la sentivamo, però la sentivamo, dove ci doveva sentire? No, ma gli altri qua, se ne come, si sente l'audio, in sala qua, tra le casse, che ti facciamo? Potremmo allora? e poi, se un po' maso, vero? Grazie. Sì, grazie. C'è tutto. Un cronometro, mi certo. Ci sentite nel mio tempo. Sì. Grazie. Ciao. Skype è un po' anticipato per dopo, perché c'è un prema tecnico, quindi riprende il mio. Ciao. Io sono Marco. Lavoro per Accenture Security. Mi occupo di Manager Security Services. Sono socio fondatore del Bergam in the Middle. Ho diversi hobby che cozzano l'uno con l'altro. Parlerò di un'esperienza casalinga con un sistema di allarme di casa. Diciamo l'allarme di mio cugino. Nessun sistema di allarme è stato maltrattato per realizzare questa ricerca, tranne quello di mio cugino. E don't try this at home, o meglio, non provate a casa dei vostri vicini, perché potrebbe essere, diciamo, contro la legge. Allora, non voglio andare lungo su quella che è la storia, diciamo, della insicurezza nella domotica, ma in particolar modo nei sistemi di allarme. Diciamo che è un tema che sicuramente esploderà sempre di più nei prossimi anni, perché è convergenza fisicologica, perché gli allarmi di casa, così come quelli industriali, sono sempre più interconnessi. si è iniziato con il filo, questo è il caso del sistema che vi presenterò. con il wifi, Zigbee, Zetawave, eccetera, eccetera, tutto insieme, diciamo, che aumenta esponenzialmente la superficie d'attacco. Qual è la vittima di questi esperimenti? Un allarme INIM, abbastanza diffuso in Italia, perché l'azienda è italiana, è uno dei leader italiani su queste tecnologie, a cui mio cugino voleva attaccare, diciamo, una scheda per la gestione via rete LAN. La scheda nella fattispecie si chiama Smart LAN SI, che è quella lì, permette di, di fatto si aggancia sulla scheda dell'allarme in seriale e fa da interfaccia TCPIP per la parte di configurazione, diciamo proprio la configurazione che farebbe l'installatore, la parte di gestione tramite delle app oppure tramite i display che vendono loro direttamente, che hanno la stessa interfaccia di quella schifanza che vedremo adesso. Va beh, disegno, diciamo, ad alto livello. Va beh, centrale, router, un router lì è wifi, ma potrebbe essere, no, in realtà è cablato. E poi, come si accede? Si può accedere o direttamente, chiaramente, dalla rete locale oppure tramite, risponendo il servizio su rete, su rete pubblica, tramite un DNS, poi vedremo anche questa parte qui. Marco, non si vede il presentatore. Non si vede qui, va bene. No, ma in streaming. Va bene, mi metto qua davanti. In streaming. Allora. E, oppure attraverso il servizio, servizio in cloud. Questo non l'abbiamo, non l'ho analizzato e, vabbè, diciamo che fuori, potrebbe essere un'evoluzione. Allora, semplicemente, per l'analisi, per cercare di capire come funziona, poi in realtà era, lo scopo di mio cugino era quello di capire quale fosse il codice installatore perché si voleva per configurare quella roba qui, no? Allora, per cominciare, installata la scheda, cominciata a far funzionare, che si prova con un test di accesso. Test di accesso tramite l'app, l'app da mobile, un'app Android, che, vabbè, in maniera molto semplice, quindi permette di configurare il nome, l'indirizzo, casa di mio cugino, dns.com porta a 5.0.4, quella di default, smartline.si è il modello. Una volta configurato questo, si va sulla, di fatto, la prima cosa che chiede a ogni azione, questa app ogni volta chiede il codice, che è il PIN dell'allarme, è il PIN della persona, quello che si usa per entrare in casa, di fatto. Ah, lì, si inserisce il codice, ma si può anche, poi scopriremo, si può anche non inserire, comunque sia la schermata a livello stesso. Quello che si vede, diciamo, dampando il traffico e il wire shark, innanzitutto in chiara, diciamo, vabbè, il numero di persone, il resto è abbastanza oscuro. Andiamo su una delle funzionalità, che è quella, ad esempio, di visualizzazione dello stato delle aree, di attivazione anche delle aree e tutto il resto. Sempre cliccando sulla prima aree, si ottiene la schermata di inserimento codice utente, una volta inserito il codice utente, compare quella schermata là, in cui c'è scritto lo stato delle aree, se è acceso, spento l'allarme, che è scritto lì, di inserire, eccetera. E, diciamo, l'equivalente è semplicemente, diciamo, il dump del traffico che genera quella schermata, questo qui, niente di complicato, perché di fatto il protocollo è un protocollo, diciamo, custom, ma è, di fatto hanno portato a livello TCPIT i comandi che vanno inviati direttamente via seriale, più o meno, è qualcosa del genere. Quindi, è abbastanza leggibile. Quelle cose carine che si leggono, appunto, l'allarme disinserito, giorno, notte, eccetera, eccetera. Allora, qui, primo test, no? Andiamo a vedere come funziona quando si inserisce una password giusta, un PIN corretto per il password, in realtà il PIN corretto, PIN errato. Inseriamo il PIN errato, codice utente, a quel punto, qua, nella schermata dell'applicazione compare impossibile recuperare i dati, verificare la connessione, parametri centrali, non è un messaggio così critico. Il Dump, però, mi dà, innanzitutto, giorno, notte, l'are, eccetera. In questo caso non mi dice se è inserito o disinserito, però mi dà, insomma, già le informazioni sulla configurazione dell'allarme, cosa un po' strana. La cosa ancora più strana è che poi, insomma, uno sta lì e si cervella, cerchi di capire, ma dove cavolo l'ho mandata? La password, no? Da una parte ho messo la password che era 654321, dall'altro ho messo una password a caso, non mi ricordo. Dove cavolo l'ho messa sta password? Il diff del traffico mi mostra solo la differenza tra alcune richieste in più nel caso in cui la password sia corretta rispetto al caso in cui la password sia errata e questo è il caso in cui la centrale che mi ha dato la password. Perché se, con un po' più di attenzione, se avessi guardato praticamente il terzo pacchetto inviato dalla centrale, è la password 654321. Questo in qualsiasi caso. basta inserire questa richiesta che è questo decimale 0152 bla bla bla. Alla fine è stata la centrale a confessare la password. Quindi ho sentito un po' Chuck Norris quando fa il debugging, no? Allora, la cosa, va bene, la cosa è anche visibile poi lì sempre nella schermata del wildcard. La stessa cosa è per il pin installatore, che era quello che cercava mio cugino. Il pin installatore fa la stessa cosa. Quindi c'è una chiamata diversa per avere il pin installatore dalla centrale. Questa è l'applicazione che viene utilizzata per la configurazione. Si settano tutti i parametri dell'allarme, come deve suonare, quali sono i numeri di telefono, in che modo, eccetera, eccetera. La carina è stata simpatica. Peccato che anche in questo caso il pin non è che viene inviato dall'applicazione alla centrale. Il pin viene inviato dalla centrale all'applicazione. E l'applicazione dice, ah no, è sbagliato, allora non ti faccio fare quello che mi hai chiesto di fare. Cioè, non lo so, è un sistema di autenticazione esotico, diciamo. E qua vediamo infatti il pin installatore, 99999, che aveva dentro lì, tranquillamente, visibile. Cose simpatiche. Allora, qui la prima idea, no? Primo proof of concept. Fare, diciamo, cercare di mettere tutto insieme, tutti questi codici, perché tanto basta sapere quali sono le richieste da fare per avere tutte quelle informazioni. Non c'è bisogno di autenticazione, eccetera, eccetera. Lo script in python brutto, scritto male, che tira fuori versione, pin, pin installatore, lo stato di configurazione, lo stato dell'allarme, se inserito o disinserito. Questo già può essere interessante, no? O almeno, io... Il mio cugino era un po' preoccupato, no? Quando aveva visto questa cosa. Vabbè, uno dice però, c'ero in casa, non è che sposto su internet, cioè, mi devo bucare la rete di casa, poi trovare dove sposta sta roba, eccetera, eccetera. Va bene. Peccato che gli amici di Inim offrono due possibilità di controllare questa roba. Uno è esponendo direttamente il servizio, il servizio fatto molto bene su internet, l'altro è via cloud. Il cloud non l'abbiamo testato. Loro, so che il cloud è la modalità consigliata, perché dicono è sicuro, però se ne ha scritto gli stessi, non lo so. Vabbè, quindi cosa offrono anche gratuitamente? Il servizio di InDNS che, tra l'altro, si interfaccia con la centrale stessa. Quindi la centrale fa da client InDNS con questo dominio che hanno loro, inimdns.biz, uno si registra, casa di mio cugino, inimdns.biz, in automatico lui fa il sync, su quelli mancanti ho passati questi. Ah, ok. Questo fa il sync e quindi pubblica, aggiorna il InDNS, quindi sempre raggiungibile come casa di mio cugino inimdns.biz. Ovviamente l'idea, mi hai detto dove andare a cercare. Subdomain illumination, quindi vuol dire, so che bene o male lì dentro ci sono un po' di questi apparati che si chiameranno appunto inimdns.biz. Uso un toolettino che può essere subroot, ma può essere anche un tool scritto a mano al momento. L'unica roba che bisogna fare è prendere una wordlist, buttarla in input e aggiungerci inimdns.biz. Qualche, diciamo, un paio d'ore ha tirato fuori 42 potenziali target che avevano appunto cognome inimdns.biz, oppure casa mia, casa appunto inimdns.biz.biz.biz.biz.biz.biz.biz.biz.biz Nel momento in cui viene interrogato con una certa stringa, l'apparato risponde con la versione. Allora, per semplificare la cosa e fare un giro così sul mio apparato o meno su quello del mio cugino, quello che, vabbè, scritto un prove di nmap che fa questa verifica, restituisce la versione. Magari un giorno metteranno in nmap. Poi, l'altro proof of concept simpatico invece è quello sull'autenticazione. È una feature opzionale, l'autenticazione di solito uno lo configura e deve entrare proprio in un menu per andare ad attivare eventualmente questa autenticazione. Quello che si può fare è mettere una password che di fatto viene interrogata, non è interrogata, deve essere fornita come primo valore della connessione TCP. Freeway and shake, la prima roba che devo fornire nel momento in cui l'autenticazione è attivata, è la password in formato plaintext, al che posso mandare altri comandi, quello mi risponde, eccetera, eccetera. Se non mando l'autenticazione, se non mando la stringa di autenticazione, quello non risponde, o meglio fa un finac. Poi anche lì chiaramente si parla di autenticazione basata su una stringa massimo 8 caratteri, eccetera, eccetera. L'idea abbastanza banale può essere quella di scrivere uno scriptino che faccia un minimo, faccia un brute force. Anche qui i tempi per eseguire un brute force possono essere quelli che vogliamo. Teniamo in considerazione che questo sistema non manda nessun allarme nel log degli allarmi giornalieri, eccetera, eccetera, nel momento in cui si fa qualcosa via LAN. Se uno va alla tastiera a sbagliare password, viene loggato. Se uno lo fa via LAN, non viene loggato, cosa simpatico. Altra strada percorribile è quella di analizzare l'app. Qui abbiamo fatto il discorso al contrario, un po' un reverse del traffico che gira, eccetera, eccetera. L'altra strada sarebbe potuta essere quella di analizzare l'app mobile di Android, decompilarla tipo con JDX e analizzare un po' il funzionamento interno di questa app per arrivare alle stesse conclusioni. Una cosa, vabbè, così, questo è un tempo di, penso, mezz'ora. È il tempo che ci ho dedicato a questa roba qui. È una roba che è saltata dall'occhio. SSL senza il pinning. Sapete cos'è il pinning? Vabbè, insegnatevelo. È la verifica dei certificati. Cioè non verificava nemmeno che il certificato fosse firmato. Pugliava certificati autoaffermati perché intelligentemente hanno fatto proprio una classe Take X509 Trust Manager che implementa X509 Trust Manager disabilitando il controllo della validità del certificato. Poi ci sono un po' di secret accodati in giro nel codice, eccetera, eccetera. Ok. Per concludere, vabbè, diciamo che questo è stato giusto un giretto, un esperimento su un perimetro molto ridotto, quello che aveva a disposizione il mio cugino per fare, diciamo, per capire effettivamente quali sono gli strumenti con cui protegge casa sua. e direi che lo scenario non è dei più incoraggianti. Possibili approfondimenti potrebbero essere un'ulteriore analisi della pick up, poi analizzare anche quella definizione, non so se l'avete visto, va bene, diciamo nelle feature si parla di criptazione proprietaria che è possibile opzionalmente attivare ma se è basata su quell'SSL che poi è bucato serve a poco. Poi c'è lo scenario cloud, lì non so cosa... lì non so cosa ci... lì non so, si aprono mille scenari e poi un'altra roba interessante che è saltata fuori analizzando un po' il codice, che grossa parte del codice in realtà è basata su alcune feature che servono per il controllo remoto delle telecamere. Quindi anche lì ci sono, diciamo, mille scenari che uno potrebbe andare a analizzare. Conclusioni, diciamo che quelli che dovevano... che l'allarme non è che faccia granché... ne sappia granché di sicurezza, un po' come questo qui che dorme sul fucile. Se doveste averne uno in casa collegato alla rete eccetera eccetera, magari mettetelo dietro una VPN o qualcosa di meglio. Tagliate il capo di rete. Tagliate il capo di rete... Tagliate il capo di rete. Grazie! Non so se ci sono domande... C'è un minuto... qualche domanda? Questo? E' questo? Sì, stacca. Ok, dammi. Qua... Qua... Un minuto di esplosione. Un minuto di esplosione... Beh, intanto se ho qualche domanda magari... Sì, lo facciamo, com'è che faccio... magari vuoi rispondere a qualche domanda prego intanto che temporeggiamo domande qualcuno di voi ha qualcosa di questo tipo qualche suo cugino qualche all'altro di questo tipo a casa tra poco si ha un'altra marca General Electric quindi non praticamente italiana ma funziona allo stesso modo trasformare i comandi di seriale per poi implementare le applicazioni che ogni utente ordinale vuole quando vuole comandare il proprio allarme è quello il problema le utilizzazioni di allarme invece cercano di andare su su processori magari un po' più potenti perché poi alla fine questi scatorotti non possono fare granché con più di comandi di seriale questo è un po' che è di dire la nuova volta di un sensore di affino quindi mi senti? sono stupidi ma sono lo stesso tempo vulnerabili rispetto all'implementazione di un Linux RTOS che avrà comunque altre prove di sicurezza che sono un po' che è un modo non è sicuro ma bisogna farsi in reversa per capire dove come entrare mentre invece i nuovi stemi di allarme non saranno sicuri perché sono basati sui sistemi operativi quindi avranno le classiche in realtà che troviamo in giro il mentor non accenderà il sistema operativo e sarà molto più tra capito chiaro sì diciamo che la cosa preoccupante facendo questa analisi è che noi ce ne accorgiamo facendo analisi in questo tipo perché chiaramente abbiamo un'ottica di smanettone di uno che più o meno sa come rompere le cose però per anni ha funzionato così dal punto di vista analogico nel senso che vorrei capire poi se qualcuno fosse in grado di mettere mano ad esempio inserendo una centralina in più fake oppure inserendo delle componenti in mezzo dal punto di vista elettronico fosse in grado di fare le stesse informazioni probabilmente gli stessi attacchi che si fanno sulla parte cablata sulla parte sulla parte Ethernet si possono fare sulla parte cablata questa è una mia una mia supposizione e che poi in realtà è diciamo lo scenario che abbiamo visto in tante tante vulnerabilità che sono uscite negli ultimi anni di fatto tutto quello che era security perché magari era poco accessibile il mezzo tecnologico vedi radio vedi l'analisi appunto l'analisi appunto delle reti e le reti cablate in realtà poi è stato rossi con poco prego ottimo sentiamo guarda saluta il pubblico qua buonasera a tutti buonasera a tutti è tutto tuo vai è tutto mio vai stage di off allora buonasera sono Tommaso sono a casa un po' influenzato mi spiego di essere lì con voi mi è stato potete parlare di un open source e di un security corporation center quindi come utilizzare il software consulso all'interno di un security corporation center quello che una delle cose che si fa in un open security corporation center è appunto come accennava prima anche Simone di andare a analizzare luoghi di sistema e di rete per verificare la presenza di accessi anomali accessi non voluti quello di cui volevo parlare di stasera era dei network IDS quindi di come analizzare il traffico di rete per verificare la presenza di due attività malevole alcuni degli strumenti che utilizziamo generalmente nell'attività per verificare che non vi siano attività malevole sono i genitori che mi permette di raccogliere il pick up di tutto il traffico che passa attraverso la rete il nord è su ricata che mi permette di andare a mezzare delle regole in collezione per vedere se ci sono delle delle anomalie all'interno della per vedere che ci sono delle connessioni che so che sono malevole quindi sono da appunto da approfondire da bloccare barnear che permette appunto di passare questi luoghi generati dal nord su ricata bro che mi permette di fare un po' di statistica sul traffico di passare un po' tutto il traffico in chiaro che passa e almeno catalogare tutto il traffico che è tratto e che prima che mi permette di parallelizzare quindi di spartire i sassetti tra più worker di questi strumenti che è lato in lato e quindi di sfruttare meglio l'architettura multicora per ottimizzare l'evolamento di attività malevole passando a snort snort lavora appunto per firma per signature un esempio di una regola ve l'ho messa in questo slide che vedete l'attività da deve dire che è alers quindi chiede di generare un'allerta che vede un passetto di pc dalla rete che è stata configurata all'interno di di configurazione di snort può partire da qualche si porta quello che mi interessa è che arrivi su un qualche sito si porta 53 e messi la la rete messi perché c'è un po' carattere aclam di che è un altro caso di caratteri messi quindi se trovo che appunto è stata una connessione verso un server dns mi immagino perché sto parlando di un sito si porta 53 e chiedi aclam di internet io so che qualcuno sta facendo dell'attività malevole perché sta portando un domino che so che è legato a una campagna malevola e quindi vado a generare un'allerta però invece ci permette di di catalogare un po' tutto il traffico e di estrarre un po' di informazioni dalle connessioni che vede passare io so entro in fondi delle traffiche e posso intendere a catalogare e vedere tutte le connessioni che sono state effettuate estrarre file estrarre calcolare il dei file e arrivare ad esempio con dell'intelligence a verificare che non vi siano connessioni che sono da correlare all'attività malevola una delle piattaforme che utilizzo e penso che utilizzo per andare a catalogare tutto l'intelligence è list ma loro informazioni sono in plazzo per mettere quindi di catalogare correlare e condividere le informazioni su campagna male e attività di cyber frame in generale il bello di questa piattaforma è che è open source e ha delle API che permette di estrarre direttamente delle regole in north o suricata che sia e di importarle per la nostra idea o di estrarre delle regole per poter messare arrivando i file malevoli che ho visto passare all'interno della mia rete quindi intiplicando questi strumenti è possibile andare ad analizzare il traffico e vedere se effettivamente c'è quante attività sospette all'interno della rete il problema adesso diventa di andare a aggregare e realizzare tutti questi dati che stanno generando uno delle switch che sono utilizzati in questo campo è l'artic stack l'artic stack si compone principalmente di tre componenti che sono l'artic search e l'artic search e l'artic si permette di andare a passare tutti i log che abbiamo prodotto noi con Nord e Gro abbiamo generato dei log a partire dalle connessioni di rete questi log sono poi appunto passati da log stash secondo le regole di macchine che vengono impostate vengono unicizzati da elastic search e poi possiamo ricercarli in modo molto semplice fruttando Chibana con Chibana possiamo generare delle dashboard che ci permettono di andare ad aggregare i dati nel modo che ci interessa andare a creare delle dashboard per poterli visualizzare in modo semplice e poi andare a fare pivoting quindi andare ad approfondire una volta che vediamo un'attività sospetta quindi una volta che effettivamente vediamo che un allarme è scattato possiamo andare ad utilizzare questa piattaforma che è interattiva e ci permette di andare a ricostruire tutta la catena di infezione per mettere insieme tutti i posti software ci vorrebbe anche tempo e conoscenze di tutti quindi è una cosa che ci viene comoda avere qualcuno che lo fa per noi io sono tigre e sono a tutti da cercare se qualcuno ha già fatto in questo caso abbiamo che i nostri amici di che richiedono solution hanno creato un sistema operativo hanno modificato un i-book inserendo tutti i passetti e tutti gli installer per creare in modo automatico e veramente banale un i-s a costo zero è tutto questo chiaramente trovate tutto su di-tab questo sistema operativo anche la particolarità che appunto sforzando come abbiamo come introdotto Elasticsearch e c'è una solita Elasticstack permette di essere molto salabile quindi di poter configurare l'infrastruttura di monitoraggio un po' come vogliamo tra le varie configurazioni dei modi possiamo configurare appunto il nostro sicuritano come Master Server quindi possiamo installare tutta la parte di Elastic quindi Elasticsearch e la Tash e Kibana su un unico server che farà solo da Vettore Centrale e avremo poi dei modi per monitoraggio per appunto smuffare tutto il traffico che possono essere appunto dei fornord log che sono modi che semplicemente smuffano il traffico e vedono morti e compagnia e quindi vanno a generare tutte le alerte queste note possono un'ontrata al Master Server che si occuperà di impassare log e indicizzare questi log un'altra possibilità è quella di non delegare al Master Server i parsing e l'indicizzazione quindi creare dei midi note quindi delle sonde che sono come quella appena descritta ma con in più anche l'articolo e la Tash appunto per quindi sperare sostanzialmente i log in locale sulla sonda passarli e indicizzarli direttamente lì in questo modo anche il carico di lavoro per la ricerca dei log e quindi per l'aggregazione una volta che utilizziamo chi va è delegata alla sonda quindi in questo caso stiamo caricando di più la sonda rispetto al caso del forno di modo ci sono poi degli store di modo invece che sostanzialmente si occupano semplicemente della parte di parking quindi della parte di storage appunto di parking e indicizzazione utilizzando quindi queste varie configurazioni possiamo andare a configurare la nostra la nostra la nostra la nostra la nostra rete di vari security per realizzare delle degli IE possiamo utilizzare possiamo creare una configurazione stand alone quindi con tutto su un unico server che avrà il compito quindi di fare il traffico generare allerte storarle valiare passare le lez e indicizzarle e quindi se abbiamo il traffico di lavoro in questa fase è tanto e quindi per una rete con poco traffico aumentano un po' le dimensioni della rete così diventa un po' troppo stringente quindi si può appunto andare a distribuire il carico utilizzando un master server per la gestione centrale per andare appunto a fare e far fare i dati oppure andare a distribuire in modo più posante con un server centrale dei modi che ci permessano di fare il traffico appunto e generare l'alerte e inviare tutti i log ad gli store di mobile invece prendono i log in locale e vanno appunto a passare poi tutti i log e il master server interviene direttamente gli store di mobile che prendono effettivamente i dati in questo modo il carico è di un distribuito su più macchine e quindi diciamo che riusciamo a risolvere un po' i problemi dovuti all'altro trucco hardware dovuto appunto alle condizioni di traffico che possono essere appunto più pesanti quindi se avete queste domande sono qui in collegamento con le cose se no faccio capire al prossimo intervino sono tre minuti per le domande niente nessuna domanda grazie faccio io una domanda senti ciao sono Marco senti se puoi chiarire diciamo la differenza tra snort e bro come funzionalità dato che entrambi analizzano il traffico di rete entrambi generano degli alert eccetera eccetera allora snort appunto come abbiamo visto è la vera perfetta è più complessa che la vera nostra sul Facebook che vanno a verificare se sta potendo attivare l'immense vanno a verificare che l'immense è stato chiamato che l'immense chiamato e allora diciamo che diciamo che snort e su recata sono più appunto indirettati all'IDS quindi identificare delle anomalie e dei pattern conosciuti mentre però diciamo che si occupa più della catalogazione diciamo del traffico senza generare l'alerte poi si può anche possono essere definiti degli script dagli utenti per per matchare dei particolari pattern però diciamo lavora su come se non è che non so l'arte lavora lavora magari un po' più diciamo a basso livello a basso livello inteso come stecchi usosi rispetto 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 a snort che lavora anche molto di più a livello applicativo esatto rispetto un po' tempo questo chi è il prossimo grazie ho ancora una presentazione se ce la fate poi ci sono di pausa ci siamo ciao a tutti sono max anche se non è scritto sulle slide perché sono praticamente nessuno non c'è manco l'UMI stasera vi parlo delle hacking competition o ctf il termine deriva da capture the flag non so se qualcuno ha giocato mai a quake quake arena o robe del genere e praticamente come in questi videogiochi bisogna ottenere delle delle flag ci sono due tipi di capture the flag diversi ok una attack e defense dove praticamente ad ogni team viene assegnato una macchina con delle dei software vulnerabili e questi software vanno patchati prima di essere messi in rete praticamente nel team ci si divide in due alcuni fanno blue team e gli altri fanno red team i primi quelli del blue team devono scrivere dei patch per il software in modo che gli altri team non riescono ad attaccarli e quindi a ottenere flag mentre quelli del red team devono scrivere gli exploit in modo che quando andranno in rete potranno attaccare gli altri team la schermata che vedete sotto viene dal defcon ed è praticamente diciamo la mecca di dove viene svolto attack and defense e questo qua è stato nel 2015 e ogni freccettina che vedete è un attacco verso un altro verso un altro team che dà punti invece l'altro tipo di ctf è geopardy questo qua praticamente si divide in varie challenge queste qua sono alcune categorie quelle diciamo un pochino più conosciute web reverse engineering pawn crypto e misc che diciamo raccoglie un po' tutto nelle web di solito si tende a fare o server side quindi attacchi server side SQL injection PHP per fare confusion di vari di vari non so immagini con dentro codici oppure misconfiguration di alcuni web service in questo caso praticamente lo scopo è ottenere il flag in quel senso oppure si può fare invece client side quindi CSRF XSS tutti gli attacchi che andranno invece nella parte client invece in reverse engineering si tende a dare un software che praticamente dato un certo input dà un altro output che è di solito una stringa la flag sarà appunto quella stringa quindi bisogna scaricare questo esecutibile fare reverse engineering e da diciamo le informazioni che si hanno ottenere cosa si dovrebbe inserire per ottenere il flag pawn è simile perché viene dato sempre un esecutibile ma oltre all'esecutibile viene dato un server da attaccare e la porta praticamente in pawn si scarica l'esecutibile si fa reverse engineering si trovano vulnerabilità lo scopo è trovare un RCE quindi una remote code execution riuscire a cedere al servizio pawnarlo quindi far andare un exploit e di solito qua poi si può anche scrivere shellcode in versioni anche più difficili e ottenere flag in quel modo invece cripto bisognerà attaccare certi tipi di criptografia che in teoria dovrebbero essere vulnerabili per cripto è difficilissimo almeno a mio parere perché bisogna sapere un botto di matematica primo e secondo perché bisogna essere sempre aggiornati sugli ultimi paper perché ci sono sempre scoperte nuove in cripto ed è giusto saperle in mischi invece si mette un po' di tutto quindi programmazione scripting o networking a volte non so ti danno un pick up che quindi è un file ottenuto da wireshark e tu devi ottenere la flag da lì qua è dove di solito vengono segnate le ultime le ultime ctf perché di solito i ctf durano dalle 24 ai 48 ore ci si organizza in team o si può andare anche da soli e si tenta di ottenere più punti possibili ottenendo i punti si va a finire in classifica entrando in questa classifica poi si va nei team più alti si può vedere anche tra l'altro che con Emma Peroni abbiamo vinto l'ultimo ctf di dicembre che vale anche un botto di punti perché 200 sono davvero tanti come prepararsi quindi a questi ctf per prima cosa leggere i write-ups perché alla fine di ogni ctf vengono fatti dei write-ups dove si scrive come si sono risolte le varie challenge e come come che metodi hanno utilizzato per scoprire le flag poi ci sono dei siti di prova che sono root.me ponable dove ci sono varie challenge esempio su ponable ci sono solo ponable ma su root.me c'è sia client sia server tutte le parti web pon anche reverse engineering quelli con i pick up networking e su questi siti di prova si trovano anche challenge che sono un pochino più fattibili perché di solito nelle ctf ufficiali a meno che non abbiano davvero pochi punti sono davvero difficili le challenge invece in questo caso se siete un po' più noob si riesce a ottenere comunque qualche qualche flag e soprattutto restare aggiornati sul mondo della sicurezza questo perché nelle ultime ctf quelle con più punti puntano sempre a mettere cose di attualità esempio c'è stata una ctf in cina pochi mesi fa e avevano messo blockchain che comunque è andata forte tutto il 2018 tutto il mio 18 quindi c'era mi pare un exploit da fare su ethereum questo era root.me di cui ho parlato prima quindi si può vedere tutte le varie challenge che sono lì a sinistra la difficoltà e il numero di punti quindi ovviamente per una challenge che è più difficile si otterranno molti più punti e praticamente una challenge è composta da tre parti principalmente queste qua sono le web server quindi si ha il nome che è quello a sinistra la descrizione che è quello che bisogna fare che bisognerebbe entrare dentro ma nelle slide non c'è quindi il nome e la descrizione e poi direttamente come accedere al servizio cosa si ottiene da fare CTF a parte che non l'ho scritto ma a volte ci sono dei premi in soldi o comunque in altri modi questo qua l'ho scritto principalmente per la gente che studia in università come me che quindi non ha ancora lavorato per prima cosa imparare il team working quindi come lavorare insieme verso un obiettivo che è ottenere le flag ci sono persone che sanno più di crypto ci sono persone che sanno più di pawn quindi organizzarsi in questo senso per riuscire a ottenere le flag è molto importante per riuscire ad andare in vantaggio rispetto agli altri team e come convertire le conoscenze in competenze perché spesso in ambito accademico si hanno tantissime conoscenze ma pochissime competenze quindi si sa a livello teorico come funziona tutto però a livello pratico non si è mai fatto nulla quindi una persona sa come funziona perfettamente un xss come fare filter evasion ma non l'ha mai applicato e quindi quando arriva il momento di fare un pen testing o di fare di cercare bug sulle proprie applicazioni sempre scappa qualcosa e soprattutto è divertentissimo fare ctf è molto divertente soprattutto per me perché ne faccio abbastanza non ho ancora fatto ctf a punti però testare le proprie conoscenze è davvero importante secondo me e basta finisce qua se avete domande nessuna domanda le write apps si trovano direttamente sui siti si si trovano direttamente sui siti andando indietro si dovrebbe vedere non si vede qua sotto su ctf time che è fatto dalla comunità di ctf ci sono i write apps delle ultime ctf quindi trovi proprio dall'ultimo poi anche se vai in irc le loro irc appena sono finito l'evento condividono tutti i metodi che hanno fatto per avere le flag e appunto se vai sul sito ctf time trovi tutto anche nell'archivio trovi anche quelle vecchie di write apps grazie mille altre domande? allora lascerai il posto al prossimo o aspettiamo anche 10 minuti? mi chiedo a pausa di 10 minuti e ho detto sì ciao a tutti io sono Enrico e volevo parlarvi di analisi simbolica con Engel io sto facendo attualmente dottorato all'università di Bergamo sono anch'io tra i soci fondatori dell'aclab e faccio parte anche di altre organizzazioni in genere mi occupo di access control ma recentemente mi sono occupato anche di mobile security e questo mi ha dato modo di di addentrarmi in strumenti tipo tipo Engel allora vedremo un attimo un refresh su quello che sono le tecniche di binary analysis classiche una slide come funziona l'analisi simbolica come funziona Engel qualcuno conosce Engel tra i dati di mano due utilizzo base e altre informazioni tipo dove scaricare l'eseguibile così via per tecniche di binary analysis abbiamo storicamente tutti conosciamo probabilmente quello dell'analisi statica quindi si prende un bel eseguibile analisi binare vuol dire mi viene dato un eseguibile devo scoprire come funziona e magari voglio raggiungere alcune funzionalità che sono protette da password o qualcosa del genere un po' come diceva diceva Max prima per reverse engineer o phoning ovviamente posso fare object dump quindi posso posso ricavare l'assembly dall'eseguibile posso usare AIDA per per vederlo un po' meglio per usare qualche decompilatore e così via come analisi dinamica invece gdb and friends quindi peda tutti i vari tool che si basano su gdb gdb on debugger quindi oltre a vedere direttamente l'assembly mi permette anche di steppare all'interno del mio eseguibile e vedere come le variabili cambiano registri memoria e così via e radar 2 se qualcuno riesce a utilizzarlo ma è più complicato vabbè dopo un po' ci sei venuto però ok tutto questo ha dei limiti nel senso che fin quando dovete magari riversare qualcosa di molto easy anche parlando di ctf qualche crack easy ok però quando qualcuno si impegna per non farvi vedere cosa sta succedendo vi trovate magari situazioni un po' più complicate tipo del genere o tipo del genere quando qualcuno usa un obfuscatore questo è fatto da llbm obfuscator che appunto serve per impedire a qualcuno di fare un'analisi fino a robe del genere cioè ok che potete vedere l'assembly però se volete arrivare a un certo punto di questo codice dovete anche un po' capire sia con un'analisi statica che con un'analisi dinamica è un po' difficile per questo per questo nasce l'analisi simbolica qua ci sono quattro slide rubate da qualsiasi presentazione su anger che sia mai stata fatta l'analisi simbolica come funziona tiene degli stati del programma è quello che ha la memoria è quelli che sono i registri le variabili del programma e ogni volta che trova una condizione genera due stati in modo da da aggiungere ai constraint del primo strato il primo stato il ramo vero quindi ad esempio lì c'era viene presa una variabile x viene verificato se x è maggiore o uguale a 10 e in questo caso si genera un altro stato che dice x deve essere maggiore o uguale a 10 per entrare in quel ramo oppure se ne genera un altro che dice se x è minore di 10 allora sono nell'altro si va avanti si va avanti così fino a generare tutti questi stati e io ovviamente sono interessato a entrare nella funzione you win giusto? e in base a questo posso andare a concretizzare delle variabili ossia prendo lo stato relativo alla linea di codice che volevo andare a eseguire lì c'è codice e pseudo codice ovviamente voi avrete un'assemblea un'assemblea esempio e vado a concretizzare delle variabili ad esempio qua ho due constraint uno dice x maggiore o uguale a 10 l'altro dice x minore di 100 x uguale a 99 mi fa entrare all'interno delle righe che stampano poi tutto chiaro fino qua ok quindi ad esempio con l'analisi simbolica se io dovesse analizzare questo codice cosa posso fare? ho un punto di ingresso ho una funzione magari in cui voglio entrare un pezzo di codice in cui voglio entrare che è quello che ho marcato come end posso anche marcare alcuni stati come avoid cioè se per caso sta entrando qua nell'esplorazione ignoralo perché magari c'è un'esplosione computazionale e così via perché ovviamente lui deve andare a provare tutti gli stati però magari qualche stato ha un ciclo form messo lì apposta per mandare un po' in loop questi programmi mandano un po' in crisi quindi posso dirgli skip a queste parti qua perché sono sicuro che non mi interessano e trovo una strada che collega lo start e alla fine concretizza le variabili in modo da riuscire ad arrivare fino al punto questo ad esempio è quello che implementa anger che è un framework open source che trovate a anger.io sui tab o dappertutto è un framework per fare binary analysis scritto in python e combina appunto analisi statica e analisi dinamica simbolica loro lo chiamano puntolic analysis che è un misto tra concrete e simboliche perché praticamente fanno sia analisi simbolica e poi continuano a eseguire il programma o una versione diciamo interpretata del programma in modo che anche se il programma è opuscato è accrittato o qualsiasi cosa voi riuscite comunque a vedere i vari start è stato sviluppato dai ragazzi di UCSB quindi l'Università di California Santa Barbara si sono classificati al terzo posto del DARPA Cyber Grand Challenge che era una competizione appunto per creare degli automi intelligenti per giocare a delle CDE quindi per fare in automatico quello che generalmente viene fatto a mano questo tour è stato sviluppato per questo è basato su Valgrind per qualcuno che lo conoscesse quindi supporta praticamente tutte le architetture perché Valgrind supporta praticamente tutto il flusso dell'analisi segue questo iter quindi viene caricato l'eseguibile all'interno del framework il codice viene trasformato in una rappresentazione intermedia e poi si può fare tutta l'analisi che vi ho detto prima faccio vedere un utilizzo base c'è proprio qualche riga su anger ha tutta una sua documentazione e un miliardo di esempi con commenti e tutto questo è uno di quelli più base è un lightning tool quindi non possiamo addentrarci troppo è un crack quindi si esegue il binario con un argomento se l'argomento è corretto stampa qualcosa esempio qua correct e se invece l'argomento che viene passato non è la flag non è serial o così così cosa viene stampato così quindi per prima cosa abbiamo detto ci serve di trovare un target quindi dove vogliamo arrivare una riga un indirizzo all'interno del nostro codice in cui vogliamo arrivare e dire you win la funzione che prima dicevamo you win questo è il main più in dettaglio si vede qua che ci sono sia la parte che stampa correct sia la parte che stampa I'm sorry quindi possiamo prendere ad esempio quell'indirizzo là e dire io voglio esplorare tutti gli stati di questo programma fino a quando raggiungo quell'indirizzo ok come si fa a fare sono tipo otto righe però così almeno vi rimangono dovete installare prima anger poi vi faccio vedere come si fa e claripay è un un formula solver quindi è qualcosa che serve per andare a gestire quei costrain quei vincoli e andare a concretizzare le variabili si carica si definisce un nuovo progetto anger caricando il binario si va a definire quello che è il nostro argv1 quello che poi passeremo passeremo al programma all'interno dell'argv1 quindi diciamo il primo argomento da linea di comando e qui vedete che c'è un 100x8 perché lui lo interpreta come big vector quindi sono 100 caratteri sostanzialmente facciamo spazio diciamo in una variabile simbolica per contenere 100 caratteri generiamo uno stato iniziale che semplicemente gli dice passa l'argv1 come primo argomento da linea di comando fatto quello instanziamo un simulation manager che è quello che poi si occupa di percorrere tutti gli stati e tenerli memorizzati fino a raggiungere quello che lo volete hanno implementati diverse strategie di esplorazione qua noi usiamo quella più ovvie easy che è explore che vuol dire semplicemente esplora proprio tutti gli stati possibili e fermati fin quando trovi cioè fermati quando trovi uno stato in cui l'instruction pointer è quello ok quando l'ha trovato prendiamo il primo di questi stati potrebbe esserci di più perché magari ci si arriva da diverse parti quella funzione prendiamo il primo e chiediamo al nostro formula solver di generare la stringa per ragv1 cioè ragv1 era quella variabile simbolica e diciamo vogliamo tirar fuori una stringa che ci permette di arrivare lì come prima quando avevamo la nostra variabile x abbiamo detto avevamo come constraint che doveva essere minore di 100 e maggiore o uguale a 10 qua gli abbiamo detto tieni tutti le cioè fai tutti gli if fai tutti gli stati aggiungi tuoi constraint e poi una volta che sei arrivato lì concretizza questa variabile perché poi alla fine voglio sapere la stringa che mi permette di arrivare e alla fine stampa quindi vedete per usarlo c'è ok magari non conoscete python magari dovete guardare un attimo però vedete che è estremamente estremamente easy comunque da utilizzare può fare delle cose grandiose questo qua è proprio l'utilizzo più banale però diciamo niente di spaventoso quindi vi consiglio di guardarlo quello che questa cosa stampa è questo ovviamente qua ci sono tutta una serie di barra zero perché il primo serve per terminare la stringa e tutti gli altri sono perché il bit vector non conteneva nessuna informazione però i primi caratteri sono appunto quello che ci permette cioè quello che l'argomento che è passato al nostro crack mi fa stampare corretto quindi non avete smattato con AIDA non avete fatto nulla di particolare siete stati un po' più smart e avete detto vabbè so tutta la teoria che ci sta dietro però io voglio arrivare qua non voglio fare i conticini a mano trova qual è la variabile che mi permette di arrivare lì altre informazioni su anger cos'altro può fare anger usa delle symbolic procedures vuol dire che ad esempio string compare loro l'hanno reimplementata non uso quelle della libc perché ovviamente se c'è una string compare li devi prendere il bit vector che voi avete come variabili simboli e se c'è uno string compare che dice la prima deve essere una A deve andare ad aggiungere nello stato che è il primo il primo carattere del mio symbolic bit vector deve essere una A e così via quindi hanno implementato praticamente tutto quello che c'è nel libc già così però potete anche implementarvi delle altre cose vostre ovviamente non hanno implementato funzioni di librerie astruse che voi magari avrete nel vostro eseguibile che dovete analizzare quindi potete dire quando trovi questa funzione invece che fare la funzione vera che comunque nella rappresentazione intermedia e tutto magari non è così attendibile fai quest'altra cosa qua e ti scrivo il codice in python per estendere il mio stato può fare automatic rob chain building quindi una volta che avete trovato un exploit vi costruisce automaticamente la catena per fare ritorno oriental programming può fare automatic automatic binary hardening vuol dire che appunto se c'è un buffer overflow se c'è qualcosa del genere magari lui è in grado di trovarlo perché basta dire quando il mio instruction pointer diventa simbolico a quel punto vuol dire che io posso andare a agire sul mio instruction pointer in qualche modo fai qualcosa per evitare che questa cosa qua succeda e avete prevenuto degli altri attacchi può fare anche automatic exploit generation come vi ho detto prima se vi serve controllare l'extraction pointer lo rendete simbolico e poi vedete se magari l'argb da qualche parte se è troppo grande finisce all'interno del vostro instruction pointer perché c'è un buffer overflow ovviamente l'hanno implementato per le loro cose della cyber grand challenge e poco altro perché è un problema teorico abbastanza abbastanza massiccio come si fa a installare è una roba in python quindi potete installarlo via pip vi fate il vostro vostro virtual end e poi fate pip install anger scarica l'internet e lo compila però fa niente ci mette un attimo altrimenti c'è anche un container docker se preferite che ha già tutto tutto integrato potete direttamente utilizzarlo questi sono alcuni riferimenti ma poi dopo caricheremo le slide da qualche parte li potete trovare comunque trovate tutto su anger.io che è il sito di anger su github trovate il sorgente anger doc è quello che vi dicevo tutta la documentazione è scritta benissimo e poi c'è qualcosa su z3 e qualche altra presentazione con questo finito domande? sì nell'esempio che hai fatto tu devi insolvere poi lo devi per concretizzare la la soluzione ma immagino che esploro anche un solver è un solver interno o si interfaccia a qualcosa allora ClaryPy è una sorta di loro wrapper sul z3 quindi si lui usa un solver per andare ogni volta che fa uno step se c'è un se c'è un if praticamente va a creare due stati e va a aggiungere ai constraint la parte di vero e la parte di falso però praticamente ClaryPy è sostanzialmente un wrapper su z3 che è un solver solamente per andare a gestire quei simbolic bit vector in maniera più facile però non so se ho risposto alla si hai riconosce che ho curato meglio il codice che il titolo si esplora cioè quella parte di esplorazione appunto è lui che crea gli stati quella strategia lì probabilmente esplora solo stati di region o di voi si l'unico problema è che può ovviamente avere un'esplosione computazionale perché quella cosa lì fa breath per search quindi va avanti così o forse fa addirittura DFS quindi se per caso c'è un loop continua a girare lì dentro infatti questa roba qua funziona perché quel crack mi è molto molto facile se fosse qualcosa di un po' più impegnativo hanno delle altre strategie di esplorazione che cercano di verificare se c'è un loop magari escono tenendo solamente quello che è l'invariante dell'ulto sì io volevo sapere i venti esterni non lo so una un percepire da ete in questo caso non rendono gestiti in o se lui è in attesa su una porta e così via e di fare probabilmente devi fare un hook che va a gestire quel caso lì e praticamente ti dà a lui una sorta di feed cioè lui praticamente fa tutto un lifting su Valgrind e quindi poi che gli serve per andare a analizzarlo però anche quando usi Valgrind non è che puoi davvero usare la cosa come se non funziona però funziona quindi tutto quello che non è gestito autonomamente glielo devi infilare con un hook forse siamo fuori tempo quindi se poi avete altre domande durante la cena mi spongo grazie ancora ciao a tutti sono Paolo Perotti sono un progettista elettrico e anche elettronico e torniamo su qualcosa di pratico in casa tutti noi abbiamo i contatori dell'energia elettrica i vecchi contatori a disco sono stati sostituiti a inizio del 2000 con dei contatori digitali adesso c'è un'altra sostituzione tentiamo di capirne qualcosa di più perché ce l'abbiamo tutti in casa vediamo ok parliamo di 36 milioni di contatori quasi tutti gestiti da Enel questo aspetto che vediamo è il contatore che abbiamo quello nuovo è stato cambiato un po' il design ce ne sono in giro circa 9 milioni nella Bergamasca siamo arrivati a circa il 20% di sostituzione però questo contatore non è presente soltanto in Italia ma è presente anche in altri paesi ovvero tutto è nato da questa associazione senza scopo di lucro che è formata da Enel Endesa che sono gli spagnoli anche Diego poi c'è una E.ON che sono rumeni e poi ci sono questi signori qui di un piccolo paese balcanico quali sono i problemi che questi contattori parlano e questa talk non andrà a vedere che cosa le vulnerabilità quali sono i problemi ma è un po' un'idea di voi che ne capite più di me perché io ho imparato a programmare i tempi con Pascal quindi qualche anno ce l'ho però sopra ci si può lavorare perché hanno inventato un po' di altre cose comunque il numero di questi contatori crescerà importante nota non è scritto su internet si vede la lacking di contatori americani o inglesi quelli tondi per capirci sono completamente diversi da quelli che abbiamo noi sono proprio due filosofie completamente diverse il vecchio contatore aveva delle funzioni memorizzava l'energia elettrica consumata quindi si aveva questo bellissimo display limitava la potenza nel senso che più di un tot di cose non poteva accendere e aveva dei sigilli di garanzia hardware di modo che se qualcuno lo apriva ce se ne accorgeva in più contatori un po' più grandi tipo quelli industriali memorizzavano anche altri parametri tutte queste cose lo fanno anche i contatori nuovi ad esempio ho il display ho un interruttore ma permettono di fare altre cose ovvero questi contatori vengono per tutti quelli che sono teleletti interrogati ogni 15 minuti e mandano dei dati in più è possibile modificare le tarature del contatore quindi cambiare la potenza che io posso erogare tramite internet ovvero non esce più l'omettino che sigilla il contatore o che te lo chiude viene disattivato a distanza se non paghi le bollette dell'Enel oppure se hai bisogno più potenza perché ti è arrivato il piano di cottura a quello lì in vetro ceramica o quello a induzione chiami il signore di Enel o gli altri distributori e nel giro di un giorno o due viene automaticamente aumentata la potenza altra cosa che fanno questi sono comunicare in modo online direttamente se qualcuno tenta di aprirli oppure se qualcuno fa altri tentativi di manomissione ovvero tempo fa si diceva che era possibile tramite questa porta che era una porta di ingresso ottica andarli a riprogrammare è vero si poteva fare poi che cos'è successo che questi essendo collegati il 95% di questi contatori appena c'era un disallineamento quindi dopo 15 minuti lui ritornava hanno aggiunto delle modifiche del firmware modifiche fatte sempre online tramite il loro modo di comunicazione quindi non è uccito l'omettino e hanno detto no no se vengono cambiate delle cose e io non ho una tabella delle operazioni che il dipendente di Enel può fare ed è autorizzato a farlo se quel numero lì non è dentro in tabella salta fuori un allarme c'era anche tutta la storia dei magneti si trova ne hanno parlato tutti anche qui c'era dei misuratori a effetto di AL che si accorgevano venivano saturati da questi magneti esterni è successa un'elaborazione del firmware che gira su questi contatori per cui se si avevano valori troppo elevati di campo magnetico automaticamente partiva un allarme lì c'è qualcuno che ne ha scritto parliamo però del 2013 quindi è passato un po' di tempo ma questi contatori con chi comunicano? Allora il contatore che è questo comunica con dei dispositivi locali che quindi l'utente può comprare e installare poi un concentratore che è normalmente messo dove c'è la gabbina di media tensione e poi in qualche modo fibra ottica onde radio telefonia cellulare con la centrale che controlla alcune decine o alcune centinaia di migliaia di contatori poi chiaramente per questioni di legacy di eredità questo sistema trasmette i dati al sistema di fatturazione di Enel e degli altri quindi noi abbiamo essenzialmente due porte di comunicazione questo e questo e come dicono gli hacker se c'è una porta di comunicazione c'è la possibilità di andare a metterci le mani e capire se chi ha lavorato ha lavorato bene oppure si è dimenticato delle cose comunicazione quindi bidirezionale tramite un sistema power line la comunicazione avviene sugli stessi cavi con cui viene fornita la corrente l'altra cosa importante se il contatore è monofase va bene se il contatore è trifase la fase utilizzata è la fase R le altre fasi non vengono utilizzate io avrò quindi vari contatori che sono collegati sotto la stessa cabina di Enel e tutti questi contatori trasmettono e parlano con questo diciamo server locale per avere le varie informazioni Enel dichiara che gli scambi di messaggi sono molto brevi ottimizzati power line banda stretta va bene utilizzo una modulazione BPK S e una velocità di 4800 per secondo e usano un sistema AS a 128 bit già sappiamo qualcosa di questo in più loro dicono che questa è quasi una rete di tipo mesh quindi se un contatore non riesce ad andare in un certo posto in realtà e non riescono a sentirsi in realtà alcuni messaggi girano attraverso altri contatori che fanno da ripitere queste sono cose che sono un momento da indagare l'altro aspetto invece è l'aspetto casalicco allora noi abbiamo ad esempio questo è un impianto di casa dove io ho un generatore eolico un generatore fotovoltaico e quindi non solo consumo energia ma anche la produco questa qui è la famosa schedina che io posso comprare da Enel e aggiungere all'impianto questa schedina va e parla con i vari contatori quindi la qui è un altro aspetto tenete conto che il costo di questa schedina oggi è intorno ai 50 euro nude e cruda se puoi una scheda Arduino praticamente se prendi invece una scheda già incapsulata con la scatola con l'alimentatore eccetera possiamo arrivare a un centinaio di euro cosa c'è dentro un processore un modem powerline e alcune interfacce USB eccola qui si vede un po' meglio cioè chiaramente una batteria questa è la parte ad alta tensione dove arrivano dentro i 230 volt un po' di integrati varie e forti RS485 e UART mi fai partire il questo è un manualetto in BDF si vedranno qualche pagina dove invece si racconta come parla non torno indietro allora questo è nuovo nuovo nel senso che parliamo del 20 di novembre del 2018 qui si raccontano un po' di cose veramente c'è tanta roba bisogna leggerselo tutto io non ho avuto il tempo di guardarci però è interessante i pod sono la lista dei numeri diciamo di matricola fisici perché qual è il problema serio di una cosa del genere che io sono qua collegato al mio contattore voglio leggermelo ma come posso essere sicuro che quello che ha il contattore vicino al mio non lega anche il mio o viceversa perché comunque il segnale Powerline gira dappertutto soprattutto se siamo metti in un condominio quindi abbiamo tutta una serie di tabelle in cui vengono caricati i codici univoci dei contattori i codici univoci di questi apparecchi mome e bisogna fare il matching essere sicuri che vengano gestiti in modo corretto altre cose ad esempio abbiamo delle tabelle con dei numeri riservati cosa succede se io metto dentro dei numeri diversi si blocca tutto oppure saltano fuori altre cose abbiamo esattamente la lunghezza e la tipologia delle stringhe c'è molto di più i parametri è quasi come se fosse un collegamento non vorrei dire stupidate ma come si usava con i vecchi sistemi dei modem a ti tutto il bellissimo modo con cui discutono altre cosette addirittura quando come due di questi discutono fra di loro adesso arriviamo a vederne un'altra che sono scusate ecco il formato dei dati lista ok direi che questa è finita la presentazione l'idea è c'è questa cosa che permette di fare molto perché con questo apparecchietto che costa poco io posso vedere tutti i miei consumi e vedermeli dove voglio perché mi escono queste informazioni ogni 15 minuti lui se le ricorda per 10 giorni per cui non deve essere controllato e letto online può essere letto una tanto ma chiaramente ci sono molte possibilità che tutte queste cose abbiano dentro un mucchio di bug se avete domande o altro chiaramente questi dati eccetera saranno presenti in fondo ho avuto qualche problema in questi giorni per cui non sono riuscito a finire le slide domande ne avrei una io dimmi il consorzio e distribuzione ha dato qualche diciamo tipo di garanzia sul fatto che i dati trasmessi dalle varie centraline non possono essere erenzi dalle altre centraline allora il consorzio cifriamo in ice e abbiamo fatto chiedo perché mi ha raccontato un mio amico un po' di tempo fa di un caso che era successo in Germania che ricordo dove avevano fatto un sistema simile senza cifrature quindi uno si è scattato col power line dall'altra parte del contatore e vedeva le letture di tutte le persone allora Meters & Moore non ha rilasciato al pubblico documentazione almeno io non l'ho trovata tenete conto che queste sono cose abbastanza moderne hanno qualche anno tutta questa idea di certo è che loro qualcosa avranno fatto ti diranno che va benissimo ma poi ci saranno dentro errori e rischio sicuramente o che usino cose obsolete per cui però loro in realtà non parlano con noi quindi Meters & Moore non parla con noi parla con Enel quindi è sopra Enel o sopra a due A se tu hai il contatore quindi sono quelle cose che sono sì facciamolo soltanto che prima avevamo i sigilli sul contatore i piombini schiacciati ci sono ancora adesso oltre a quello dovremmo avere qualche cos'altro per impedire che succeda un casino dimmi allora lei ha detto che no dammi del tutti prego dai hai detto che il contatore è a gestire comunque diciamo il rapporto con l'alimentazione del client quindi il caso sarebbe il contatore a staccare la linea non più Enel allora funziona così Enel programma il contatore e gli dice che ad esempio più di 3 kilowatt non puoi far passare poi se non paghi la bolletta te lo portano al 10% quindi 300 watt lui all'interno il misuratore dice sto assorbendo più di 300 watt o di 3 kilowatt stacco questa è la logica e quanto sarebbe difficile ad esempio bypassare lo stesso il contatore e quindi diciamo far saltare questo blocco software che ha e questo è da pensarci all'inizio era possibile riprogrammarlo utilizzando la porta una porta ottica e veniva un discorso tipo modem a T con dei comandi simili come struttura ma poi parliamo del 2001 2002 oggi non è più pensabile perché il 95% dei contatori è letto e interpellato ogni 15 minuti il 5% che non viene letto e interpellato così rapidamente è perché esistono disturbi sulla linea generali dai vari alimentatori switching lampadine risparmio tutta quella roba lì che dà fastidio al power line ma non sono molti ok tempo è finito se poi avete bisogno comunque troverete un po' di link e poi è una buona idea per lavorare buona sera a tutti mi chiamo Muhammad e oggi faccio una presentazione delle tecniche di spam avanzate ecco qua un po' di assunto di quello che vediamo una introduzione poi cos'è lo spam cos'è un phishing gli strumenti e il processo durante una campagna di phishing la raccolta di informazione la nuova generazione delle scan page e il sistema anti-spam e poi la fonde qua una parte teorica quindi dobbiamo fare il test dovete un po' di pazienza spam e phishing la posta elettronica ormai è diventata uno strumento molto utile nella comunicazione è entrato a fare parte della nostra vita quotidiana pensiamo che solo in Italia scusa non si sente alza un po' più scusa la posta elettronica ormai è diventata uno strumento molto utile di comunicazione ed è entrato a fare parte della nostra vita quotidiana pensiamo che solo in Italia ogni giorno vengono spediti circa 940 milioni di numeri diventa quindi indispensabile tutelare da eventuali truppi e terricoli la nostra casella di posta elettronica per farlo bisogna conoscere alcuni termini tipo spam e phishing lo spam è il termine che indica la recezione di qualsiasi messaggio indesiderato la forma più comune di spam è quella che riguarda la posta elettronica indesiderata molte aziende attraverso i messaggi di spam propongono i loro prodotti e i servizi e le ragioni di ricercare alcuni servizi perché è poco costoso poi si può mandare migliaia di mail nello stesso tempo il phishing invece è un tipo di truffa via internet attraverso la quale un aggressore chiamato phisher cerca di ingannare la vittima convinciendola di fornire informazioni personali sensibili una delle truffe di phishing che avvengono tramite posta elettronica edisce un procedimento che possiamo definire come standard primo il truffatore o phisher si dice un messaggio di posta elettronica e si simula nella grafica e nel continuo del sito ufficiale della banca quindi può essere paypal streaming netflix e poi qualsiasi altra cosa secondo punto qual è sempre il suo continuo relativo ad avvisi di particolari situazioni o problemi da verificare il proprio conto corrente non funziona oppure la password da aggiornare eccetera eccetera la mail invita il destinatario a seguire un collegamento MUR continuato nel messaggio per risolvere la situazione poi penultimo passo il collegamento fornito reindirizzato ad una copia del sito ufficiale dove si trova la nostra scamperice cioè la scamperice del criminalismo ultimo punto le informazioni forniti vengono quindi rubate quando memorizzate dal server di sito dal truffatore verranno utilizzate per fare acquisti e trasferimento di donato e altre cose qua vediamo strumenti che vengono utilizzati in una compagna di phishing allora la prima cosa fondamentale è la lista di indirizzi email oppure chiamata nel mondo dei cybercriminali mail inglesi e l'elenco degli indirizzi email che ricevono la mail di phishing poi seconda cosa è il dominio oppure il spazio web dove viene caricata la scamperice o la pagina coronata del sito ufficiale terza cosa è il mailer oppure il servizio di invio mail e si usa di solito o un servizio di cloud come office 35 o un smtp gratuito tipo quello di google oppure sfruttando la funzione mail sui server hackerati l'ultimo strumento è la scam page oppure la phypege oppure la pagina apparenza diciamo adesso andiamo a vedere in dettaglio unione di questi strumenti qua e la server il mailing list il mailing list di solito i server criminali riescono a procurarselo attraverso la vulnerabilità SQL injection quindi riescono a scaricare tutta la tabella che contiene la lista degli indirizzi email del database di qualche sito oppure attraverso alcuni software che riescono a raccogliere indirizzi email archiviati su motori di ricerca come email status poi acquistandoli da black market per esempio questa qua è una big mailing list che contiene 16.000 nirizzi email che dopo verranno utilizzate per operazioni di g5 questa invece è una semplice pagina scam page di Apple come potete vedere nel dominio che è un dominio falso che chiede all'utente di mettere il suo login la sua password e ovviamente qualsiasi login il password viene ammessa però accetta ci passa alla seconda pagina perché ovviamente il fisher o il truccatore non ha in possesso del database di Apple se no non avrà fatto tutto questo giro qua questa qua è il billing scam page o la pagina successiva una volta messo il login e la password che anche si sono sbagliati senza la volontà dell'utente ci passa alla pagina successiva dove ti chiede altre informazioni tipo carri di credito nome e cognome che servono ovviamente a fare transazioni online questo qua è il processo che viene in una campagna di di solito questo qua è il processo che viene in una campagna di phishing per prima cosa il fisher o il truffatore fa una copia identica del sito ufficiale seconda cosa acquista un dominio che ha un carattere abbastanza simile del sito ufficiale quindi poi la carica terza cosa spiegisci migliaia l'email all'elica dell'indirizzo che ha in possesso dovrà garantire che dovranno arrivare nella loro casella di email in arrivo per solo uno scopo così hanno avrà più fiducia l'utente avrà più fiducia quarta cosa la vittima riceve la mente di phishing pensa che si tratta di qualche allia o qualche notifica del sito ufficiale ma invece si trova sul sito di phishing che gli chiede di inserire i dati sensibili la raccolta di informazioni sulle persone e le loro identità allora siccome tocca al nostro amico Cicero se per chiedere migliaia di email questa cosa qua gli consuma sia risorse di email server sia la banda del sito dove è caricata la sua pagina dovrà un attimo ottimizzare la sua campagna questa cosa è per due semplici motivi il primo rindirizzare la sua campagna verso certe categorie di utenti il secondo per benostrare la segnalazione e la jcli ma come come possiamo risalire o avere un po' di informazioni su certi utenti a partita dalla loro mail e qua entra in gioco l'email vale circa choose è uno script scritto con vari linguaggi di programmazione che si basa sulla libreria e poi richiede che permette di filtrare un elenco di numeri simili interrogando server ufficiali per esempio Apple vedranno quali email hanno un account Apple utilizzando vari chiamati pull per ottenere alla fine un elenco di indirizzi email puro di persone che sono in possesso di un account del sito obiettivo che in questo caso è Apple perché ovviamente come abbiamo visto qua tutti questi indirizzi email non tutti possiedono un account Apple quindi i server criminali per ottimizzare la loro campagna usano questo script che si chiama Bradley Checker tool come funzionano? praticamente ci sono dei link particolari sia su Paypal per esempio se tu metti un email che non esiste si risponde il server si dice che non esiste un account associato a questo indirizzo email quindi da qua in base a questa cosa qua si crea uno script che passa una mail alla volta e capisce se quell'email la possiede di un account Paypal o meno la stessa identica cosa anche sull'iservizio di streaming Netflix se tu scrivi una mail e tu devi a casa ti dice che non abbiamo trovato nessun account sulla loro database in base a questi errori qua si capisce se possiamo filtrare la nostra e avere un risultato finale diciamo tutti gli utenti che hanno che possiedono un account su quel servizio da spammare adesso vediamo un video allora qua ho una chica scritta con shellbash che fa un check su come potete vedere lo script si chiama check con sh scritto con shellbash che fa un check sulla nostra mail che è una mail fatta io a caso che contiene quattro email in cui ho solo una email possiede un account poliliatrico le altre tre non esistono neanche quindi i tre primi me sono sbagliati e l'ultima che possiede una con tempo qua mi chiede il percorso della mia mail qua il nome della cartella dove vengono salvati i risultati alla fine qua i vari parametri che voglio spiegare e adesso sta facendo un check su HTML1 uno alla volta e controlla e come vedete che è riuscito a trovare un'email che possiede un account Apple oppure li ha salvati nella cartella andiamo a controllare genera due file un file con l'email che non possiede un account Apple l'altro file con la lista di inglesi e mail che hanno un account Apple facendo così se per criminare riescono a ottimizzare la loro campagna così non sprecano il loro mail server per niente non mandano mail a persone che non possiede un account Apple perché faccio un esempio se uno non possiede un account Apple riceve una casella mail che il suo account Apple è stato bloccato da verificare capisci subito che è una mail di phishing che va a segnalare subito quindi il phishing rischia che la sua scampage viene blacklistata subito passa smart scampage la nuova generazione la nuova generazione delle pagine false prima all'inizio c'erano questi scampage che qualsiasi cosa tu digiti si fa passare quindi perché non avevano un database in cui potevano confrontare o controllare in effetti adesso l'ultima generazione dei scampage sono in adesso vediamo un po' di tipi i tipi di scampage sono 4 i trologin ATS trologin più auto infograver e gli autospread andiamo a vedere uno di questi tipi il trologin la maggior parte degli utenti consapevoli o svegli se ricevono una mail sospettano che è una mail di phishing la prima cosa che fanno è aprire il link e provano inserire dati così a casa nel campo di login se ovviamente si dice che i credenziali sono sbagliati si capisce che è un'analizia che si tratta del sito ufficiale se invece si fa passare vuol dire che è una scampage quest'ultimo scampage trologin è in grado di controllare veramente i credenziali interrogando i server del sito obiettivo per esempio Paypad poi passando guardandoci sempre sulla libreria oppure se la mail e la password sono in vostro adesso vediamo un esempio su una scampage trologin l'ho caricata sul mio localhost quindi sono proprio all'esterno di Paypal come vedete che è una pagina copia identica qua mi chiede di mettere il mio login metterò la mia mail e metto una password sbagliata all'inizio per provare e come potete vedere che è in grado di controllare se i credenziali sono giusti o sono sbagliati adesso riprovo poi rimetto la password giusta mi ha fatto entrare mi ha indirizzato sulla pagina successiva che mi chiede altre informazioni scampage trologin più autoinfografer in questo ultimo tipo di scampage oltre a controllare i dati inseriti dall'utente se sono corretti o meno una volta che hai inserito la tua mail e la tua password corretti ti rindirizza verso la sua prima pagina del benvenuto che ti dimostra il tuo nome cognome telefono e alcune altre informazioni dal profilo dell'utente in modo che dà più fiducia sia sul livello tecnico e anche sul livello psicologico e vediamo subito l'ultimo video che ti dimostra questa volta vediamo su un servizio di streaming Netflix sempre sul localhost proprio fuori provo a mettere la mia mail di Netflix e metterò una password sbagliata all'inizio infatti riesce a capire se la mail e la password che ho dato sono sbagliate e rimetto la password giusta in questo momento sta interrogando i server di Netflix in base alla risposta che avrà qua in questo ultimo come avete visto è riuscito anche a prendere il mio nome il mio numero di telefono e le ultime quattro cifre della mia carte di credito quindi un utente normale medio quando vede una pagina del genere non ha il minuto ovvio che si tratta del sito ufficiale poi quando fa conferma ti rindirizza sulla sua successiva pagina e ti chiede qualsiasi cosa che la maggior parte degli utenti inseriscono senza dubitare tra i robot più famosi al mondo c'è il Google Save Browsing è un servizio blacklist fornito da Google che fornisce elenchi di link che contengono malware e contenuti di phishing i server criminali si basano sul servizio stesso per bypassarlo nel senso che Google offre un app per controllare il link sulla loro lista di siti blacklistati in base alle link aggiornati di Google risorse web non sicure e questo qua è un semplicissimo script che riesce a bypassare il sistema antispam che un attaccante riesce a caricare la sua pagina falsa su tanti siti almeno 4, 5, 6 domini domini 1, domini 2, domini 3 e in base alla libreria corre attraverso l'app di Google una volta che entra un utente normale inizia il suo lavoro che controlla un singolo dominio sul database di Google attraverso l'app e vede se è stato blacklistato o meno se è stato blacklistato può passare sul secondo e così via finché trova un sito ancora funzionante non è stato blacklistato e fa un semplice vedere infine quello che voglio dire è che negli ultimi anni il mondo di phishing è stato molto evoluto quindi perciò è meglio avere sempre più caselle email o almeno due caselle email una privata per uso personale e soltanto a uso personale non dovrà essere mai condivisa su piattaforme social o qualsiasi altra parte è una mail pubblica che possiamo anche definire come una mail temporanea che possiamo utilizzare per registrare su social condividerla e fare registrazioni controllo dell'ur si guarda sempre attentamente il nome del dominio solo perché il nome del dominio del sito malevole contiene le parole giustiamo significa che è il sito ufficiale per esempio qua è il sito ufficiale di paypal.com dall'altra parte è il sito malevole che se guardate bene sembra un po' uguale a casi di paypal.com però se guardate bene è soltanto un sottodominio del dominio principale login.sh.com l'ultima cosa mantenere aggiornati il browser e assicurare di usare l'ultima versione del browser che siamo stati esemplicati tutti i facci di sicurezza recenti detto questo ho finito se avete qualche domanda da fare domande? non c'è più nient'altro buona notte bene direi che bisogna avvertire sotto i camerieri che siamo pronti a prendere l'ordinazione per la pizza perché si ferma metteremo lo stream online sulla pagina youtube dell'associazione metteremo anche le slide sulla pagina dell'evento che è sul sito internet quindi potete scaricare tutte le slide e detto ciò continuiamo la serata insomma per chi rimane pizza e dopo facciamo una hacker giopardy quindi una specie di capture the flag con grappino buono e grappino meno buono in base se vincete meno però non voglio svelare altro e